Noi andiamo avanti con la trasmissione, parliamo di realtà virtuale, l'avatar del capo ufficio, il visore 3D a Pisa, curano lo stress da lavoro, il progetto innovativo per la riabilitazione dei pazienti è stato messo a punto dall'azienda universitaria di Pisa insieme alla scuola superiore Sant'Anna. Ce ne parla Cristina Benedetti. Sembra un videogioco coinvolgente ed empatico, ma ha il potere di trattare e riabilitare i pazienti affetti da disturbi da stress associati all'ambiente di lavoro. La realtà virtuale non è solo il regno dei videogames, sempre più spesso viene usata come strumento terapeutico. Arriva da Pisa il progetto che stimola il benessere e la positività sui posti di lavoro contro lo stress. Con la pandemia lo stress sui luoghi di lavoro è sicuramente aumentato, compromettendo la salute mentale dei lavoratori. Con la realtà virtuale abbiamo un utile strumento di supporto a un intervento di desensibilizzazione per i fattori di stress a cui il lavoratore può essere sottoposto, curando gli eventuali disturbi e potendo migliorare il reinserimento lavorativo. Laura, anche oggi sei tu a creare problemi nell'organizzazione del lavoro. Sei troppo lenta, si sta creando una coda e i clienti si lamentano quasi tutti. Laura è di fronte al suo caporeparto, sono appartate alle casse del supermercato. Ancora una discussione, ancora un rimprovero per il lavoro svolto che non va mai bene. Laura è sotto stress, mani al petto, gesti di nervosismo. Tolto il visore 3D l'esperienza si interrompe. La voce dell'avatar che interpreta quella della caporeparto è in realtà un terapeuta. Laura è solo un esempio di fantasia per spiegare il progetto di realtà virtuale per il trattamento alla riabilitazione di pazienti affetti da disturbi correlati a stress lavorativo. Indossando il visore di realtà virtuale il paziente si ritrova immerso in una ricostruzione fedele del suo ambiente di lavoro, incluse alle persone che lo popolano e quindi le sensazioni che prova sono esattamente paragonabili a quelle che prova nel reale ambiente di lavoro e questo aggiunge naturalmente un elemento di realismo necessario per la terapia. Ideato e sviluppato dall'azienda ospedaliera universitaria Pisana con la scuola Sant'Anna, all'Università di Pisa e finanziato da Inail, il progetto sarà sperimentato per la prima volta a livello clinico e su base volontaria entro la fine dell'anno. Il benessere in azienda è importante per la crescita del business e per conservare la salute mentale dei lavoratori. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la salute mentale come obiettivo prioritario della prevenzione sui luoghi di lavoro. Nei suoi documenti ha anche indicato la formazione dei manager e il reinserimento lavorativo come strumenti principali per questo fine. Prossimo passo, sviluppare il progetto in altri scenari. Il progetto in questo momento prevede la ricostruzione di tre contesti specifici lavorativi ma naturalmente può essere adattato a tutti i contesti di interesse ricostruendo opportunamente sia le persone sia i luoghi di lavoro.